In mezzo a tanti profeti di distruzione e condanna, voi siate una forza positiva, siate luce e sale di questa società, siate il locomotore che traina il treno in avanti. È la missione che Papa Francesco ha fidato ai sacerdoti, ai consacrati, ai seminaristi della Chiesa Copto-Cattolica nell'ultima tappa del suo viaggio in Egitto. In 1500 lo hanno atteso nel campo sportivo del Seminario Maggiore Patriarcale di San Leone Magno a Madi, nella periferia sud del Cairo, dove la maggior parte di loro si è formata o si sta formando cuore della Chiesa Cattolica in Egitto. In un caldo pomeriggio egiziano il Vescovo di Roma ha intervenuto in una liturgia della parola incentrata sulla consegna di Gesù ai discepoli, voi siete la luce del mondo nel Vangelo di Matteo. Ha riconosciuto che sacerdoti e consacrati del piccolo greggio cattolico in Egitto operano in mezzo a tante sfide e spesso poche consolazioni e li ha incoraggiati a non avere paura del peso delle circostanze difficili che alcuni di loro devono attraversare. In mezzo a tanti motivi di scoraggiamento il Papa ha invitato presbiteri e religiosi cattolici egiziani ad essere seminatori di speranza, costruttori di ponti e operatori di dialogo e di concordia. Una missione possibile se il consacrato non cede alle tentazioni che incontra ogni giorno e che voi conoscete, aggiunto, perché sono state ben descritte dai primi monaci dell'Egitto. Francesco ne ha elencate sette, le più significative, partendo da quella di lasciarsi trascinare e non guidare, rinunciando così a dare una carezza di consolazione anche quando il suo cuore ha franto. Attenzione poi alla tentazione di lamentarsi continuamente, perché il consacrato trasforma invece ogni ostacolo in opportunità, a quella del pettegolezzo e dell'invidia, che è un cancro che rovina qualsiasi corpo in poco tempo. C'è poi la tentazione di paragonarsi con gli altri, con il rischio di paralizzarsi, quella del faraonismo, con la presunzione di farsi servire invece di servire, e quella dell'individualismo, degli egoisti che invece di pensare agli altri pensano a se stessi. Infine c'è la tentazione del camminare senza bussole e senza meta, quando il consacrato perde la sua identità. La vostra, ha concluso Papa Francesco, è quella di essere copti, radicati nelle vostre antiche radici, e cattolici, parte della Chiesa una e universale. Dopo la rinnovazione delle promesse di vita consacrata di tutti i presenti, il Papa ha lasciato il seminario e raggiunto l'aeroporto internazionale del Cairo. Qui lo ha accolto il Presidente della Repubblica al Sisi, che lo ha accompagnato fino alla scaletta dell'aereo che lo ha riportato a Roma.